Mentre salutiamo i nostri ascoltatori, Paolo, un consiglio a tutti quelli che non vogliono usare il docksitter ma vogliono fare qualcosa di bello per il proprio cane. Io potrei proporre un bampetto, parliamo a trasformare la nostra città, le nostre barriere architettoniche in una parca, quando siamo di fretta arriviamo a casa dopo una giornata chiusa in ufficio, abbiamo poi appuntamento con altri colleghi che vanno ad andare a mangiare la pizza, limitiamo il nostro cane, quindi giro velocemente dell'isolato e poi dopodiché a casa. Magari mentre facciamo questo potremmo fare lo slalom intorno alle macchine, se abbiamo una panchina potremmo fargli fare la passerella e il tunnel per passarci sotto, cioè creare un momento di svago per il nostro cane, così in modo che quei cinque minuti diventino cinque minuti di gioco e di collaborazione, siamo stati insieme cinque minuti. E questo va molto bene perché i cani sono animali sociali, quindi gradiscono molto stare insieme e collaborare con l'uomo, quindi offritegli delle possibilità e lasciate oltretutto che quando si faccia un giro possano tranquillamente fiutare tutto quello che trovano, perché per loro un po' leggere la stampa, chi è passato lì, quanti anni ha, se è maschio o femmina, lasciamoli divertire un po', anche in cinque minuti possiamo fare qualcosa. Ogni arredo urbano può essere trasformato in un piccolo gioco nel rispetto degli altri, mi raccomando, e come ci ha detto Paolo adesso, che è la cosa più importante, lasciamo di leggere il giornale, si annusano la pipì e gli odori degli altri cani, è assolutamente normale, è come quando noi guardiamo in giro la gente che ci piace guardare il giro a pasteggio. Assolutamente Davide. Grazie Paolo per essere stato con noi. Grazie a te Davide, grazie a tutti.